mamma mia ha vinto lui ha vinto lui io dico ma porca bene ragazzi siamo tornati qui di nuovo su clash royale e oggi come vedete sono stato molto fortunato e ho droppato il baule super no super magico magari il baule magico e adesso lo voglio aprire qui con voi prima di aprire il baule magico abbiamo un baule no magico da aprire abbiamo un baule no magico quindi andiamo a arrivare insieme e ci da 47 monete un po' di sgherri di orde di sgherri e un cannone un altro baule magico andiamo ad aprirlo subito incredibile allora due gemme guarda quanto cash i barbari e la scarica le botte che te tose in testa è zitto comunque le gemme abbiamo preso le andiamo a riusare e ci apriamo questo baule subito e troviamo 55 troviamo un'altra scarica del merda che mi ha rotto il cazzo e uno grider che non è male figata lo grider lo voglio pure io siamo pronti? intanto mettiamo ad aprire questo qua siamo pronti per aprire questo baule magico ragazzi eh? che non è un magico eh? ci siamo? vai oh bam 544 528 3 3 2 1 la torre infernale il bombarolo la torre infernale ooooh della merda porca droga devono arrivare per forza quelli epiche ragazzi stanno per forza gli arcieri wow wow che schifo dai che schifo il cui mi ribecca oh that is scary 35 questo è buono porca droga la torre è bomba oh mi è stato a fancazzare dai il cucciolo di dragon eh il fulmine vaffanculo ma dai ma modificano che musicata un cavan principe un cavan allora io intanto ho cambiato un po' il deck il mio deck è questo qua ho cambiato col cavaliere ci ho messo invece il ghiaccio che non ho ancora provato quindi ora andiamo a provare anzi è una strategia da usare perché non so bene come si usa ancora e ho messo lo stregono al posto della strega che cioè sinceramente è più forte cioè fa 101 danni al secondo di cui 172 è d'aria e dà 450 punti ferita mentre la strega fa 58 danni di cui 41 d'aria dà 500 cioè 180-100 punti ferita in più però lo stregone fa molti più danni ad aria cioè li sciotta quasi perciò io volevo provare questo deck e andiamo subito a cercare per fare questi eh per fare i cosi è la corona siamo a 1660 trofei e non so perché ci matchano con i 1720 trofei però vabbè gli buttiamo il gigante subito come sempre qua dietro e siamo siamo pronti per buttargli lo stregone e lo buttiamo qui proprio al culo allora e lo buttiamo adesso quanto riguarda lo stregone guarda come dovrebbe sciottare bam bam fire fire figata eh però non fa scheletrini bastare eh no però comunque fa male no fire cioè sono annullati perfetto mi ha buttato l'orda di scritto è stata poco inutile sì no infatti è stata abbastanza coglione allora io direi frecce al volo frecce al volo ok non mi fa incazzo la tesla l'ha rovinata guarda è troppo forte boh boh oh 130 hai a torto 170 buono 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 allora adesso noi ci abbiamo un'altra volta ci buttiamo il gigante qua siamo pronti a ributtargli dietro il coso eh lo stregone lo stregone il magnifico il magico vai stregone e il mechico vai stregone stregone allora aspettiamo che se vuoi fare la ghiaccia vorrei provare a ghiacciare la cosa la torretta ci prendiamo la torretta easy così vai congeli tutti proprio così no ho sbagliato buono 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 eh no ma lo devo fare col gigante così intanto il gigante attaccava la torre vabbè vabbè che è questa torre non sa via no non tra un po' tagli la potività mannaggia noi dobbiamo cercare di prendere le cose almeno quando prima vai questi qua non ci arrivano nemmeno loggride ci mettiamo gli sgherri e ci mettiamo anche i goblins eh ma pensi che sto stupido eh vai 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 arciere vai arciere pensaci te allora via col coso e via con lo stregone dietro principe di là vai stregone io direi che fa così no così però non gli aghiaccio eh eh vai frecce mazza ma orca troia di quella troia mai nata allora eeeh doggride di merda via tutto via non devi manco un colpo gli devi dà merda boh posso ha sprecato allora adesso mandiamo ancora pezzi di merda fire un fottio di danni allora a questo punto mandiamo tutto di qua frecce vai 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 e qua mi servono degli arcieri grazie consegna espressa vai con i goblin perfetto ha sprecato un'altra volta i scheletri io direi di niente possiamo provare con i goblin e qua aspetta mo ce penso io guarda guarda come si fa tac ok la torre l'ho presa insieme ho bisogno di ghiacciare abbiamo vinto ole bella partita si la corona sola l'hanno preso toccherà a fare dieci cose di sto passo allora vai subito contro Rao hai cambiato valle si questo c'ha meno trofei di quello di prima per quello allora siamo pronti allora se arriviamo al 1700 ci abbiamo cioè se vinciamo questo entriamo nell'arena nuova allora come sempre la tattica del gigante lui butta la tesla gli sgherri dietro quello è un pecca? è un pecca si minchia però lui ha sprecato un botto adesso per questo qua quindi io posso fare questa cosa perchè lui non c'ha più elisirra adesso non dovrebbe averci quindi no coglione vai 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 perfetto la no non posso ghiacciare allora ghiaccio no 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 la pecca distrugge oh eh si dai no non me la buttare giù pezzo di merda pezzo di merda pezzo di merda oh una troia ci l'hai una troia eh porca troia mannaggia la tesla di merda mamma mia quanto è forte però che su stregole è una cifra il problema non su una stregole è normale che mi sti sgherri aia aiaiaia la vedo pure la vedo molto molto dura molto molto dura dovete morire dovete morire molto molto dura no ho fatto una cazzata dovevo ghiacciare dovevo ghiacciare dovevo ghiacciare ghiacciare tutto mamma mia molto molto dura molto molto che buce no no allora dobbiamo adesso lui sta in vantaggio perché oltre ad avere vantaggio di danni ha il vantaggio proprio dell'isir quindi ce l'ha più di noi oh grazie guarda guarda come me la ghiaccia eh ma le ghiaccio pure io bronzo mazza di palle così però scusa è un trapalla ha tirato mortacci teteo peccadroia sei quasi presa bella giocata stregone beh niente non ce l'avevamo fatta non mi andava a prendere mai oh forse si o forse mortacci vostra mortacci vostra dai dai un'altra botta e faffanculo no eh oh una botta gliela devi da no vabbè no vabbè ma con una frecciata mi sa che te la fai no 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 ma c'ha avuto un tempismo a buttare quei due proprio nel momento sbagliato sì vabbè mandamene l'altro cioè eh ormai butta cose a caso non c'è più tattica tre corroncine per lui e se la ride e se la ride ha riso ha riso sì ha riso pure questo grandissimo pezzo di stronzo ha riso è l'invincible non potevi vincerla è l'invincible guarda guarda che pezzo di merda no non ghiacciate la perché sono così stronzo mamma mia ha vinto lui ha vinto lui io dico ma porca in colonna no ragazzi questo video è finito perché ovviamente l'obiettivo è arrivare a due colonne su dieci perciò ci siamo riusciti abbiamo accomplish degli obiettivi perciò da clash royale è tutto e ricordatevi di venire nel nostro clan se avete tanti trofei perché scolisisca le rimole classifica e soprattutto vinceremo insieme tante partite come avete visto anche oggi perciò ragazzi il video è stato interessante perché avete visto come non giocare a clash of clans anche se comunque è importante infatti clash royale infatti non si gioca così ricordatevi di rinforzare le difese dei muri perché sono importanti i muri viola e soprattutto le disir nero fate le cose di disir nero perciò ragazzi dai granas è tutto noi ci vediamo al prossimo video e vaffanculo